e forse si erano solo tre e niente vi portaremo oggi no no allora ok va bene un contorno delle rocce con piena licenza poetica dai guarda da una parte pure me io oggi staccavo un po' prima staccavo magari per le quattro e così me la fa portare ma super volentieri così domani che iniziamo a dipingere ci arriviamo pure non mi chiedere l'ho prato bambini là che giocano a arte e bambina gioca a calcio perché non pensavo sia tappato un lavandino di solito scuola sì 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 anche io arriverei a 10 quindi prima che diventi no no quello lo fai arrivi proprio alla fine dove fanno tutto il muro sì 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 Grazie a tutti. 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 Vai. Stiamo ammiancando il muro per Andrea dove dipingerà un bellissimo circo dove collaboreranno anche un sacco di ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.